Benvenuti in questo nuovo tutorial. Sono Danilo D'Antonio. Oggi ci occupiamo dell'invio della PrimaPec. Per prima cosa dobbiamo sapere quali documenti sono necessari per l'invio. Quindi dal sito Noie andiamo nella sezione documenti e clicchiamo su PrimaPec. Nella pagina successiva scarichiamo il file chiamato testo email PrimaPec. Andiamo nella cartella Download, apriamo il file scaricato e scorriamo il documento fino in fondo per scoprire di quali documenti abbiamo bisogno. Nel paragrafo Documenti da allegare troviamo Military Order, Noie, Weis. Questi documenti non necessitano di modifiche. Dovremo solo scaricarli dal sito. Nel paragrafo Documenti da compilare, Autografare, Scansionare e Allegare troviamo La volontà è la parola di io sono, in italiano e in inglese. Questi documenti li abbiamo già compilati nel tutorial precedente e quindi non sarà necessario riscaricarli. A questo punto possiamo scaricare i documenti necessari. Torniamo alla pagina Documenti e clicchiamo su Military Order. Dopodiché entriamo sul file unico inglese più italiano e scarichiamo il file. Torniamo indietro, clicchiamo su Noie, Weis e scarichiamo i due file, Noie e Ternessenza in italiano e in inglese. Fatto ciò, troveremo tutti i documenti appena scaricati nella cartella Download. Per avere tutto più ordinato, andremo a creare una cartella su Desktop che conterrà tutti i documenti necessari all'invio della prima PEC. Intitoliamo questa cartella Prima PEC e andiamo a copiarci tutti i documenti appena scaricati. Dentro la cartella Prima PEC andremo poi a creare una nuova cartella che intitoleremo IAM dove metteremo tutti i documenti trattati nel tutorial precedente. I due documenti in formato Word salvati con le nostre modifiche e le due scansioni in italiano e in inglese autografate e sigillate con la nostra impronta. A questo punto possiamo tornare al testo della PEC aperto in precedenza per compilarlo. Nella prima parte del documento possiamo trovare tutti gli indirizzi dei destinatari a cui inviare la PEC. Subito dopo troviamo alcune istruzioni su quali altri indirizzi sarà necessario cercare e mettere in copia conoscenza. Più avanti sotto la voce oggetto PEC troviamo il titolo della PEC che andrà copiato e incollato nella sezione oggetto della PEC. Ora invece sarà necessario modificare con i nostri dati il corpo PEC allo stesso modo del tutorial precedente. Mettiamo quindi nome e cognome in alternato. Subito dopo inseriamo la terra di origine. In questo caso lasciamo terra italica. Infine inseriamo la data di nascita mettendo il giorno in numero, il mese in minuscolo e l'anno di nuovo in numero. Scorrendo più in basso troviamo un'ultima parte da compilare. Questa volta, come ci mostra l'esempio, il nome e cognome va messo in minuscolo. Se il programma vi corregge automaticamente l'iniziale del nome, basterà rimettere la minuscola. A questo punto compiliamo la parte in inglese presente più in basso e infine togliamo tutte le vendiziazioni gialle. Una volta fatto ciò, possiamo salvare il file e preparare il link in Dropbox o Google Drive contenente i documenti da allegare. Una volta caricati i 5 documenti necessari, ovvero Military Order, Noé, WIS e le due scansioni dell'IM compilate nel tutorial precedente e creato il link per il download, lo possiamo copiare e incollare in questa zona, sia sulla parte in inglese che su quella in italiano. A questo punto, possiamo rileggere e controllare che non ci siano errori nell'inserimento dei dati e salvare il file in attesa dell'invio vero e proprio. Per ulteriori domande sui documenti o se avete bisogno di ulteriore aiuto per la compilazione e l'invio, non esitate a contattare i referenti delle vostre terre, saranno lieti di aiutarvi per ogni difficoltà. Il video finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo tutorial.